Una volta completati gli esami istologici e tossicologici saranno più chiare le cause della morte di Sabatino Trotta, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Pescara che si è tolto la vita mercoledì notte nel carcere di Vasto, poche ore dopo l'arresto a seguito dell'inchiesta della Procura di Pescara su un presunto appalto truccato da 11 milioni di euro. Questa mattina il medico legale Pietro Falco, nell'ospedale di Chieti, ha effettuato l'autopsia disposta dalla Procura di Vasto che indaga per istigazione al suicidio. L'obiettivo è fare luce sugli ultimi istanti di vita di Trotta che si sarebbe suicidato utilizzando il cordoncino della tuta che indossava. Gli interrogativi riguardano anche il perché avesse indosso un potenziale strumento utile a togliersi la vita e perché la vigilanza fosse così bassa nell'isolamento dovuto alla procedura anti-covid per i nuovi ingressi in casa circondariale fatta salva alla cronica mancanza di personale nel carcere Vastese. A ogni modo Falco si è riservato altri giorni per completare gli esami che poi confluiranno nella relazione da consegnare ai magistrati stonienzi. Intanto il GIP del Tribunale di Pescara Nicola Colantonio ha disposto gli arresti domiciliari per Luigia Dolce, coordinatrice della cooperativa La Rondine, al centro di questa indagine su un presunto giro corruttivo attorno alla gestione delle residenze psichiatriche extra ospedaliere. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto l'istanza di sostituzione della misura cautelare presentata ieri dai due legali dell'indagata, gli avvocati Augusto Lamorgia e Matteo Cavallucci, a conclusione dell'interrogatorio di garanzia. Nell'ordinanza del giudice viene evidenziato che allo Stato permangono le esigenze cautelari, sussistendo in particolare il pericolo che l'indagata possa dar luogo alla reiterazione di condotte della stessa specie.